Nessuna situazione di pericolo ma ben 12 criticità da sistemare. A partire dalle prossime settimane Veneto Strade aprirà 20 cantieri per il consolidamento dei ponti in Veneto ma nel 60% dei casi interverrà nel Bellunese. In cima alla lista delle priorità c'è il ponte sulla Val de Gano a Santo Stefano di Cadore, investimento da 700 mila euro ma non è l'intervento più costoso. Infatti serviranno 3 milioni 340 mila euro per la sistemazione del ponte in località Pontette sulla regionale 50 che collega Sovramonte al Premiero. Preventivati invece 120 mila euro per il ponte Corona a Cortina. Questo è un caso particolare quel punto della viabilità infatti è stato inserito anche nel piano da 14 milioni di euro per sistemare la viabilità interna in vista dei mondiali di sci del 2021. Rimane da capire quindi in quale partita ricadranno quei lavori. A Cortina si interverrà anche sul ponte di Alverà messo a dura prova dall'esondazione del Bigontina un anno fa. Sei i cantieri lungo la Gordina con quattro ponti da sistemare a Santo Maso e due alleghe per un investimento complessivo di oltre 3 milioni 600 mila euro. A Casoni di Sedico 126 mila euro per rimettere in sesto il ponte prima di Antole. Infine 255 mila euro per il ponte di Fener Alano di Piave.